Allora, 15 minuti cerco di essere veloce. Ma venuto in mente questa faccenda dell'aranabolita perché è un esperimento che si racconta in ambito umanistico per dire dei processi da situazione, credo è qualcosa che hanno sentito un po' tutti e ogni tanto capita di sentirlo. Però in riferimento ai processi di degrado territoriale forse è un elemento in ambito. L'idea è questa, nei processi di degrado dei luoghi subentrano dei momenti di astuefazione per i quali non ci si rende conto di quello che succede. L'esperimento, ve lo riassumo brevemente, racconta una prova in cui si mette una rana in un contenitore con dell'acqua bollente e la rana salta subito fuori, viceversa se si lascia la rana in un contenitore con dell'acqua a temperatura ambiente e si fa scattare il contenitore gradualmente, l'animale non decide mai qual è il punto di fuga e qual è il momento di saltare fuori e piano piano spossarlo dal calore muore. Credo che questo esperimento possa raccontare molto bene la questione, è quella che in ambito tognano, in ambito della teoria delle catastrofi, è la questione della soglia e della biforcazione che prevede ogni soglia. A un certo punto qualcuno che è in una situazione a rischio deve decidere di muoversi, se non lo fa verisce. Il punto è questo, forse in questa metafora c'è una provocazione che è una domanda, cioè mi chiedo, l'abira si trova su una soglia oppure è la cia passata, questa soglia è passata a un punto di non ritorno in cui dovremmo fare conti con un percorso di degrado territoriale che presenta dei caratteri di irreversibilità. Quindi insomma mi chiedo questo, il punto è questo, la gradualità con cui avvengono questi processi funziona in modo preponderante nell'attutile la reazione della collettività di fronte all'avanzare del culto, cioè perché è graduale e la certe non se ne accorge. Io forse ormai quando penso all'abira ho un problema di frames, di interpretativa, che viene da una circostanza del tutto casuale. Negli ultimi due anni per questioni di ricerca etnografica sono stato spesso a Castelvolturno, che è uno dei luoghi più devastati dal punto di vista urbanistico. e mi sono rispondo che le persone che abitano a Castelvolturno non hanno reagito appunto perché il degrado arriva in modo graduale e comunque si presenta sempre con le fattezze dello sviluppo, cioè non esistono politici che dicono adesso buttiamo qualche migliaia di tonnellane di cemento per fare un po' di soldi, cioè tutto le pratiche di sfruttamento dei luoghi riguardano sempre dei discorsi, delle narrazioni che parlano il linguaggio dello sviluppo e del lavoro dell'economia, quindi anche questo dovrebbe essere preso in considerazione. Un problema che riguarda questa faccenda deriva proprio dal fatto che nelle situazioni gravate da catastrofi naturali il teorema della non attordita non dovrebbe valere, perché? Perché manca la variabile della gradualità, cioè i processi di ripristino dei luoghi terremotati sono repentini e appunto per questo dovrebbero essere visibili e dovrebbero far scaturire una reazione di tipo critico, cioè la rama dovrebbe saltare fuori dal pentolone con l'acqua bollente. Perché questo non avviene? Io proprio ho ipotizzato che questo derivi dalla funzione che svolgono i sistemi di tipo rappresentazionale nel produrre la stufazione, cioè nella situazione attuale siamo in un pentolone in cui l'acqua, il delta di variazione accelera troppo penevocemente, però c'è qualcuno che dice non ti preoccupare l'acqua è tievida e chi è che dice non ti preoccupare l'acqua è tievida? Il sistema di rappresentazioni sociali che sta intorno a questi processi di ripostruzione. Il punto è questo, c'è una coincidenza temporale, qualche ora fa hanno presentato una candidatura in L'Aquila come capitale europea della cultura e tutto questo è avvenuto all'interno di discorsi che esaltano la bellezza. Io mi chiedo come mai una città che non ha né piazze né marciapieni si propone come modello di eccellenza per l'Europa? Cioè che cos'è che produce questo? Cioè questo discorso è ammissibile, lineare oppure ci sono dei punti di inganno? E in merito a questo vorrei ripercorrere qualche passaggio di questa vicenda. Allora chi ha proposto questa candidatura parla di una città a misura d'uomo proiettata nel futuro a misura di giovani e richiama la necessità di imparare a sognare. L'ego nei confronti di Martin Luther King mi sembra quasi lottesco. A questo punto risponderei invece, ho trovato una foto di Smagish Overhauer che dice la vita dei sfogni sono fogni di uno stesso libro, leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare. Allora questo rapporto fra l'ordine e il caso mi sembra importante perché rimanda alla differenza che c'è tra la frammentazione e l'organicità, riguarda anche un fatto, le città sono qualcosa che riguarda i sogni, riguarda l'immaginario, riguarda l'immaginazione, cioè riguarda la questione che le città vanno immaginate. Dalvino diceva che le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure. Poi c'è un altro motto attribuito a Aristotele che dice che la speranza è un sogno ad occhi aperti. Allora il punto è questo, perché a volte le immagini possono chiudere gli occhi, cioè bisognerebbe riflettere su questo. A partire dal fatto appunto che la categoria del sogno è molto vicina a quella dell'immaginazione, dove il problema è che attraverso l'immaginazione si può finire con l'essere sognati da finzioni di qualità, cioè il problema è il rapporto tra il sognare e l'essere sognati. Riguarda un punto chiare che le immagini oggi più che mai possono fare da simulacro e dobbiamo riflettere su quanto l'amera con un certo tipo di produzione di pattern narrativi, molto spesso anche pattern visuali, è stata simulacro per i reali di rinascita, di sviluppo. Questo l'abbiamo visto bene nella fase dell'emergenza. Oggi è una specie di già più, dicevo Emanuele, perché ho visto molti, anche con Sara, che ho incontrato durante la fase dell'emergenza. Però tornando al discorso del rapporto tra immagine, immaginare l'immaginazione, mi viene in mente come la fotografia sia uno strumento molto legato all'asimento, cioè la possibilità di mascherare selettivamente, cioè l'asimento che è la figura rigorica della parte per il tutto, gli occhi per il volto, la meta per la nave e via dicendo. Il punto è che, vabbè, tutta la segnosi in un certo senso è sinendo perché, come diceva Bordes, non si può fare la mappa uno a uno del mondo. Però nella fotografia, specialmente nella fotografia del paesaggio, tutto questo può avvenire in modo molto forte. si dovrebbe riflettere anche sul ruolo dell'immaginazione, su come noi siamo a volte portati ad immaginare, per così dire, l'immaginazione, cioè l'idea romantica dell'immaginazione come strumento di costruzione della libertà individuale, cioè da De Boer sappiamo benissimo che l'immaginazione oggi di immaginare è un'occasione di controllo sociale, cioè le immagini sempre più svolgono il ruolo di quello che per Morenne era il ruolo delle parole manifesto, cioè orientano la percezione. quindi il problema è che queste, diciamo così, queste narrazioni alimentando l'immaginario collettivo si fanno premesse con cui la comunità si costruisce come comunità appunto immaginata. Ma oggi l'Aquila come si immagina? Oggi l'Aquila si immagina dopo tutto il periodo dell'emergenza con rappresentazioni che hanno ammiccato a un'epica che poi è un'estetica del discorso che ha riguardato anche il brutto, cioè il brutto che è stato rappresentato all'Aquila. Spesso è stato un brutto mostruoso, un brutto che si è raccontato nel segno dello squallone dove il mostro etimologicamente riguarda qualcosa di eccezionale, qualcosa di portentoso. La città non credo sia raccontabile in base a un'emergenza di bruttezza che riguarda la nostrosità, cioè il brutto che emerge dopo del remoto a cui l'Aquila come questo si innesta con 30 anni di brutture che vengono da pratiche di urbanistica contrattata e liberate, è un brutto estremamente squalico e credo che bisognerebbe rappresentare questa bruttezza per evitare che possa proseguire, per fare in modo che la cittadinanza si accorga di ciò. Quando parlo di questa bruttezza parlo appunto di una città che non ha marciapiedi essenzialmente, di una città in cui l'idea della piazza che era un'idea relegata al centro storico è stata completamente abolita e abrogata per il suo inverso che è la rotonda, cioè dove la piazza è un luogo dove la gente cammina piano per incontrarsi e è uno spazio pieno, pertanto la rotonda è uno spazio vuoto dove la gente cammina veloce ed è fatta per non incrociarsi. Il sia chiaro non è voglio dire che le rotonde non vanno bene, voglio dire che deve suscitare qualche perplessità urbanistica di questo tipo. Vi inviterei a dare un'occhiata al bozzolo di unicone di città diffusa che si è prodotta con la localizzazione del progetto Casio che ha incrementato in maniera esponenziale una tendenza all'inturbamento delle aree rurali, seguitando a produrre un disordine abitativo impressionante. Ci sono dei luoghi che mi fanno pensare a delle favelas piccolo-borgesi in cui non c'è stata nessuna intenzione di pianificazione, in cui ci sono vittemi familiari buttati al casaccio in mezzo a strade di montagna, in cui lo sguardo non si riesce a fermare nessun principio d'ordine. Non capisco all'interno di questo orrore come si fa a parlare di città esemplare. Ieri ho letto il documento di presentazione della candidatura e mi sono sentito offeso quando ho letto che si parla di magnifici borghi. Mi sono sentito offeso perché questo modo di denominare i paesi è stato declinato in maniera opposta quando c'era da localizzare il progetto base su questi paesi perché quei paesi venivano denominati frazioni da riqualificare. Adesso non capisco come si fanno a denominare magnifici borghi dei luoghi che sono infestati da ciarpame abitativo a quel livello. Insomma, tutto questo mi sembra inammissibile e vorrei tornare a questa faccella del casimento. Prendete quel documento, che c'è in quel documento? Ci sono delle immagini, ci sono delle immagini di bellezza, ci sono delle fotografie che ritraggono delle situazioni eccellenti. Noi siamo in grado di rappresentare la bruttezza dei luoghi così come siamo in grado di rappresentare la bellezza dei luoghi, perché quel documento è un esempio di sinetope, perché si prende una parte per rappresentare un insieme. però vorrei vedere che cosa potrebbe venire fuori da una rappresentazione orientata a mettere in evidenza degli elementi di bruttezza con la stessa roba con cui si rappresentano questi frammenti di bello. Anche in questo documento si è scritto che il patrimonio culturale non va inteso in modo frammentario ma come sistema e quello è un principio fondamentale dei danni culturali. Il punto è questo, che noi riproduciamo in modo artificioso come simulato un sistema di eccellenza quando mettiamo degli elementi che ci sono di totale incompatibilità con quello che raccontiamo. Qua questo luogo sta subendo un processo di degrado pesante, ti invito a vedere la quantità di capannoni che storgono ovunque. C'è una densità di capannoni rispetto agli abitanti che è inammissibile e non è possibile che all'interno di questo discorso poi si vada a parlare di eccellenza. Con questo non voglio dire, chiudo per evitare una vena riduttivamente polemica, non voglio dire che allora non bisogna candidarsi come capitale europea della cultura, però il caso mai questo dovrebbe essere un'occasione per frenare queste tendenze di fondo. Il problema invece è che a volte i sistemi di degrado non si oppongono con le retoriche di eccellenza e che le retoriche di eccellenza vanno viste combinate con i sistemi di degrado. Cioè il predicare bene è correlato alla razzolare male, diventa precondizione per razzolare male, perché si crea quel sistema di finzione che rende tutto questo possibile. Mi auguro che questa iniziativa possa servire come incontro per svelare queste finzioni. Adesso mi fermo, il tempo è tiranno, ho cercato di riassumere al massimo questi appunti, quindi appunto un po' disordinario e meno segnale, però per l'urbanistica non si può fare, ma per l'urbanistica appunti sì. Vi ringrazio. Grazie. 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 Grazie per avermi invitato, un po' meno grazie per farmi parlare dopo di Antonello, perché vi riporterò molto più terratetta rispetto a quello che cos'è. Però vabbè, innanzitutto io vi presento. Sì, allora, sono una delle tantissime cittadine e cittadini aquilani che si sono attivate in endocosisma e hanno creato e partecipato a comitati e associazioni in particolare, ho e partecipo all'autore 32, che penso che un po' di voi conoscano, e dal gennaio 2012, diciamo, sono all'interno del programma Italia di ActionAid e lavoro in abruzzo per ActionAid. ActionAid, sapete, con le leggi internazionali, penso che ne avete sentito un po' tutti parlare, che però dal 2012 ha scelto di lavorare di più in Italia e provando a declinare quelle che sono le metodologie che negli anni, nei 40 anni di storia di ActionAid, sono state porte davanti in tanti paesi, anche nel nostro territorio, in Italia, per provare a fare il nostro e la nostra parte, partendo anche da qui, da dove viviamo. Diciamo, io pensavo di raccontarvi un po' di cose anche belle di quelle che sono successe dal 2009 in poi, anche perché non dubitavo che tanti mi avrebbero parlato del brutto che ci circonda, delle scelte sbagliate che sono state fatte e che purtroppo si perpetuano nel tempo. Però, insomma, mi piaceva darvi anche uno spaccato minimo di quello che si è mosso dal basso dai cittadini e dalle cittadine in questi quattro anni. E mi scuso già adesso con le Aquilani presenti perché dirò cose che sappiamo tutti benissimo, però insomma io mi rivolgo soprattutto a chi viene in questa città per la prima volta che vede e vuole raccontare l'Aquila e anche i suoi abitanti. E la seconda parte invece cercherò un po' di darvi gli spunti su quello che stiamo imparando dall'Aquila e nel dire questo non vi nego un po' di... come dire, di... non lo dico a cuor leggero perché sicuramente alcune sfide qui all'Aquila si sono perse nonostante l'impegno di tanti e tanti e quindi il fatto di poter pensare che queste cose non accadono più in altri luoghi, in altri territori e quindi lavorare affinché queste cose non accadono più è una delle conseguenze di quanto all'Aquila è avvenuto. Inizio dal 2009, fin da subito, si sono attivate una serie di energie spontanee che si sono aggregate in un momento in cui purtroppo la protezione civile e il governo italiano imponeva a questo territorio il famoso famigerato metodo Augustus che insomma parlava anche di controllo della popolazione e di qualche maniera manipolazione della popolazione attraverso un eccessivo anche assistenzialismo e attraverso diversi metodi in un momento in cui metà della popolazione di questo territorio veniva deportata, sfollata, noi usavamo questo termine e ancora oggi intendiamo che sia purtroppo un termine giusto lontano da questo territorio e un'altra metà chiusa in dei campi in cui la politica per lunghi mesi in tutti i suoi livelli è stata totalmente assente, sembrava essere un momento di totale assenza dei referenti istituzionali, non parlo solamente dei referenti istituzionali comune, provincia ma parlo anche dei referenti istituzionali sociali, parlo dei sindacati, parlo di tante altre strutture che in quel momento e in quel periodo hanno lasciato un grande vuoto in questa città e in un momento come quello tantissime persone si sono aggregate spontaneamente sono nate tantissime in quel tempo, parliamo dell'estate 2009 come da cittadini che hanno fatto moltissimo nei primi periodi e mi piace ricordare tra le tante cose che insomma già nel luglio, alla fine luglio del 2009, tra l'altro dopo questo territorio è stato violentato anche da un G8 totalmente imposto che ha fatto veramente molti danni anche alle aggregazioni spontanee che stavano lasciando in quel momento perché chiaramente li ha messi sotto una sfida veramente, non era ovviamente immaginabile né auspicabile, già i comitati cittadini riuniti in quella che allora si chiamava conferenza dei comitati cittadini elaborarono un regolamento per la ricostruzione del nostro territorio e elaborarono un regolamento per la partecipazione del nostro territorio però in quel periodo e in quel momento le persone attive che avevano deciso di comunque fare la loro parte in questo momento difficile erano andati già molto oltre rispetto a quelle che erano le risposte istituzionali che già avevano fornito molte proposte e molte lavorate nel 2010 abbiamo assistito, io spero che tutti ve lo ricordiate è quello che insomma ci piace ricordarla come una primavera aquilana perché il 2010 fu un periodo di fortissime mobilitazioni in questo territorio alcune sicuramente, come dire, sono nella memoria di tutti il movimento delle carriole che ha portato tantissime persone, migliaia di persone a rimuovere le macerie io penso che sia stata una mobilitazione veramente particolare, originale, irripetibile nel nostro paese non erano solamente mobilitazioni di contestazione, lo erano perché si sfondavano quello che è ed era più larga allora la zona rossa quindi c'era un forte momento di contestazione però c'era anche poi immediatamente dopo un lavoro collettivo insieme si raccoglievano e si separavano le macerie che sono in realtà, che dovrebbero essere considerate tutt'oggi una ricchezza del nostro territorio, io so che ne hanno parlato questa mattina in maniera molto più approfondita quindi non ritorno che però non ancora riempivano le piazze e le strade non che questa situazione sia ad oggi risolta purtroppo la maggior parte delle situazioni di oggi non sono risolte però si sono sperimentate tantissime metodologie partecipative anche molto innovative molti cittadini e cittadini aquilani hanno partecipato a corsi di formazione sono diventati facilitatori e facilitatrici in percorsi partecipativi e anche qui mi piace ricordare una giornata che è stata quella del 21 marzo 2010 che ha visto più di 400 persone partecipare a un esperimento partecipativo con metodi anche nuovi totalmente, no? anche un po' inventati era un open space ma si chiamava semi open space insomma abbiamo cercato di inventarci un po' di tutto e l'aggregazione spontanea ha portato alle grandi manifestazioni di Roma dove insomma sono rimaste le mancanellate a memoria e alla manifestazione dell'Aula e anche all'elaborazione tutti insieme nella diversità totalmente eterogenea di tante associazioni e comitati insieme si è redatta una legge di iniziativa popolare per la ricostruzione del nostro territorio e la messa in sicurezza dell'intero paese insomma secondo me è un risultato alto quello che si è compiuto anche insomma se si vede lo sforzo di averlo fatto totalmente dal basso anche la raccolta di firme eccetera eccetera e questa cosa chiaramente insomma la mia domanda è oggi fatto questo velocissimo escursus cosa è rimasto no? di tutto questo e appunto passati anni e qualcosa è rimasto e secondo me e questo esprimo un giudizio totalmente personale soprattutto nell'energia e nel protagonismo dei giovani e dei giovanissimi di questa città che hanno dato moltissimo e che poi si sono espressi mille altri rivoli e soprattutto artistici sono nati gruppi sono nati insomma teatro sono nati moltissime cose e sono rimasti grazie al protagonismo dei giovani due luoghi che non esistevano prima e che ora ci sono sono luoghi di aggregazioni giovanile e spero che avrete modo di vederli e di sedati in questi giorni uno più vicino ed è da sì l'occupato e un altro è Casematte che invece sta nell'ex ospedale consigliatrico scusate un attimo però vabbè insomma è più vicino e sono luoghi di aggregazione che appunto forse anche prima del terremoto non mancavano erano di autogestione e che ora insomma ci sono e sono forti cosa è rimasto inoltre e purtroppo e questa è una cosa che spero che i cittadini che vi guidano le cittadine insomma ve lo raccontino purtroppo sono rimasti tantissimi processi aperti da quella stagione di mobilitazione perché i cittadini sono stati molte volte denunciati per quello che hanno fatto nel 2009-2010 e voglio riportarlo perché proprio adesso dal 27 di settembre iniziano tutta una serie di processi che vedono accusate cittadini e cittadini per sbariati e fantasiosissimi reati e che però insomma ci costringono tutt'oggi ad andare in tribunale un giorno sì, un giorno no comunque quasi tutti i mesi e quindi insomma sostenere la popolazione in questo momento quella che ha provato ad alzare la testa che ha provato ad essere pro bonista di un processo che invece gli voleva solamente essere subiti o subire dei processi imposti è importante poi sostenere nei momenti difficili e questo sicuramente è un momento difficile perché certo i processi togono energie mettono in discussione la voglia di partecipare e quindi è importante essere in qualche maniera solidali in questa maniera e cosa è rimasto in più? sono rimaste tutta una serie di domande a cui anche come accionente abbiamo provato in questi due anni a provare ad avere delle risposte una delle domande e su questo vorrei farvi due esempi una delle domande è come si può fare prevenzione in un territorio italiano che è altissimo rischio e anche sicuramente i posti da dove voi venite dove abitate l'80% del nostro territorio è a rischio sismico, idrogeologico o ambientale ovvero veramente quasi tutto il territorio eppure poco si fa per attuare diverse politiche di prevenzione che non siano quelle che vengono compiute visto che all'Aquila l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle la totale mancanza di prevenzione prima del sisma abbiamo pensato che dall'Aquila potesse nascere un nuovo modo di intervenire la prevenzione che sia una prevenzione che investa tutta la comunità che abbia un occhio di riguardo per quelli che sono i diversi effetti sulle diverse fasce sociali a cui una catastrofe porta e un terremoto o un alluvione o insomma altre catastrofe del genere non colpiscono tutti in maniera uguale ci sono persone a cui bisogna dare una risposta all'emergenza diversa a settori sociali e questo è un ragionamento che non si fa mai non si è fatta all'Aquila ma non si fa mai conoscere i propri luoghi, sapere dove si vive e sapere quali sono le necessità e le emergenze anche sociali che ci sono i nostri luoghi è la prima prevenzione che si deve fare noi abbiamo fatto con Antonella tra l'altro che parla dopo e tante altre persone un percorso di progettazione partecipata per interventi diciamo di prevenzione partecipata delle vulnerabilità ambientali non siamo riusciti ancora a realizzarlo all'Aquila perché non troviamo i fondi come voi però insomma siamo ancora in pista e vorremmo farlo l'ultima cosa e qui chiudo vorrei farvi vedere un altro video in due minuti penso che ci siamo nel tempo è un progetto che è nato dopo il tremato in Emilia proprio appunto imparando dall'Aquila un secondo ve lo spiego in tre secondi ed è appunto per favorire la partecipazione e il protagonismo della popolazione che non deve essere vista solamente con la popolazione vittima e quindi colpita ma anzi no? come i primi attori di quello che è insomma il cambiamento del loro territorio e questo progetto si chiama Open Ricostruzione e il nome dice abbastanza tutto insomma è stato fatto in collaborazione con tantissimi soggetti e da associazioni come noi e antipubblici che fondamentalmente non hanno finanziato ma hanno reso pubblici i dati hanno aperto i loro banche dati e in più ActionAid insieme ad altri è a Shoot for Change avviato e stavo facendo avanti dei laboratori per monitorare in maniera partecipata quelli che sono sia le donazioni sia i progetti di costruzione sul territorio e questo ci volevo raccontare anche perché c'è un ruolo dei fotografi che secondo me è molto interessante e che magari può essere di spunto anche a voi per il lavoro che state facendo in questi giorni all'Aquila e niente vi faccio vedere questo breve video e la finisco qui, grazie Grazie. 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 Grazie per l'invito. Volevo preparare qualcosa a livello di documentazione al lato di questo mio intervento, ma restavo un po' preparando il minardo oggi quando mi ha chiamato il mio amico fotografo e quindi ho dovuto lasciare e andare in giro con il minardo. Grazie a tutti. Ci tengo a questo perché abbiamo vissuto insieme con alcuni di voi la nostra vicenda del terremoto e anche l'anno immediatamente successivo tutto il 2009 e il 2010. La questione che voglio ricordare, magari passando qualche foto nel frattempo, è come all'Aquila è stata affrontata la questione dell'emergenza in modo virtuoso e in modo non virtuoso. Dico questo perché di fatto subito dopo il terremoto, nella situazione o generale della protezione civile, la cosa che si cercava da subito era le conseguenze psicologiche che il terremoto aveva determinato nell'animo, nella vita dei nostri cittadini di Milano e si partivano, può anche passare la foto qui, si partiva da un posto secondo che poi si è rivelato o sbagliato e che cioè il trauma del terremoto, cioè un catastrofe naturale, generasse subito conseguenze tipo il famoso disturbo osteotraumatico da stress. E allora ci fu tutto un lavoro, da parte della protezione civile, nei campi, con i posti medici avanzati, che a Milano ricorda i posti medici avanzati, il PMA che erano nei campi, dove tutti facevano un lavoro anche di ricerca per trovare trance del disturbo osteotraumatico da stress. Ma subito dopo i primi mesi ci si accorse che questo disturbo osteotraumatico da stress non era importante nella situazione dell'animo. L'immediata è ovvia la risposta alla domanda perché? Perché l'evento, se per sé un evento naturale, catastrofico, non è uguale ad una catastrofe a determinazione umana, tipo la guerra. Lì è immediata la conseguenza negativa del PMA. Nella catastrofe a determinazione naturale questa non c'è, soprattutto non c'è nei primi sei mesi del primo anno. Ma la cosa che, la visione che vorrei arrivare a portare come ragionamento e riflessione su quello che abbiamo vissuto, su quello che siamo stati indotti a vivere, è che oggi, a distanza di quattro anni, ma già un anno fa, già due anni fa, le sofferenze nell'animo degli abbinati cominciavano a devidenziarsi in modo importante. Al di là delle ricerche che hanno portato anche a vedere l'aumento dell'uso dei farmaci, soprattutto psicofarmaci, nei primissimi sei mesi antidepressivi, ma anche neurolettici, invece è un discorso da fare molto sul problema del controllo, perché molti di questi farmaci, soprattutto i neurolettici, erano usati con gli anziani. Si era cominciato a vedere che forse la determinazione doveva essere un poletta all'interno dell'intervento che è stato fatto dopo il terremoto. E cominciamo anche un po' a vedere. Questo che scorre potrebbe essere lo strumento, le azioni, e il paletto in questo senso, le azioni di contrasto che abbiamo tentato come cittadinanza, ma come operatori della salute, della salute mentale, come cittadini attivi, come Casemante, come la realtà del 332 e tante altre, diciamo un punto di dato di contrasto a quello che capivamo da subito che avrebbe determinato con la vita anni, e cioè che cosa? La deprivazione di cui gli anziani sono stati oggetti è una deprivazione complessa, che non è solo la deprivazione dei luoghi, la deprivazione delle case, la deprivazione quindi degli affetti e delle memorie legate ai luoghi, ma è stata legata all'immediata esperienza o sperimentazione di uno sfollamento così forte di una città così grande. Una deprivazione che ha portato tanta gente, se non ricordo il numero esatto, ma credo 16.000-17.000 persone, a vivere tutti nei cambi, vivendo comunità nuove da tentare di abitare e dare animare, che ha portato altre 17.000 o più persone a vivere negli alberghi della costa per tanti anni anche, oltre che per il primo anno, è una deprivazione che è stata accompagnata di fatto da una perdita della capacità di autodeterminazione. Il problema della mancanza della partecipazione è un furto che si è fatto agli appellani, ai cittadini, ed è di fatto il danno su cui oggi stiamo vivendo le conseguenze. Al di là di quelle che sono state queste esperienze virtuose di ricostruzione sociale, non solo niente è stato fatto perché noi agli appellani potessimo rivivere una costruzione di salute, di comunità, attraverso anche una vicinanza. Perché questo? Perché, per esempio, quante deprivazioni abbiamo vissuto come cittadini in generale nel primo anno e nel secondo anno? Primo anno la costruzione dei campi, ne ha parlato un po' anche Sara, il problema del metodo Augustus, del controllo. I campi erano chiaramente luoghi dove era impossibile passare i livelli di comunicazione impenetrabili di fatto dall'esterno. Una realtà, qualche realtà diversa c'è stata e su questo voglio ricordare anche il lavoro fatto da tanti giovani volontari che sono arrivati subito dopo, l'8 o il 9 di aprile, all'Angela che trovavano i campi chiusi perché non c'era per loro possibilità di lavoro perché non avevano l'accreditamento presto la prevenzione civile. Neanche noi con l'associazione avevamo l'accreditamento, ma eravamo forti in un sistema di salute mentale abbastanza avanzato e valido perché l'Angela è stato il luogo, uno dei luoghi d'Italia dove è avvenuta la trasformazione con la chiusura dei manicomi in un sistema di salute mentale territoriale, di comunità. E questo ha permesso di fronteggiare l'intervento della protezione civile che con la funzione tua e la funzione sanità avrebbe potuto togliere tutti i poteri a coloro che lavoravano nel campo della salute. Non c'è riuscita perché eravamo forti di una pratica di lavoro lunga negli anni e che ci aveva fatto capire che dovevamo contrastare tutte le forme di istituzionalizzazione. Per cui la nostra associazione che lavorava dentro il sistema della salute mentale del departamento ha saputo difendersi da questi attacchi e ha evitato per esempio che le persone di cui noi ci perdevamo cura quelle che vengono considerate i matti, i polli, come volete i pazienti venissero trasferiti lontano in istituti in luoghi di cura lontani dalla città e non rivestero invece quella contaminazione sociale positiva che era legata dal vivere insieme con gli altri cittadini che stavano nei grandi. Per cui siamo riusciti a bloccare questa operazione. Come cura all'interno del campo ricordo ancora oggi la funzione 2 il dottor Squarcione venne un giorno ragionando a lungo quella mattina e ci disse guardate voi state qui d'accordo non siete voluti andare negli istituti nelle case di cura private però vi mettiamo su quella collina a destra del campo del globo dove tra l'altro possiamo anche recintare e vi state più comodi e riguardati e avrete subito anche i servizi che gli altri non hanno ancora. Ovviamente a parte la buona la cattiva fede di fare questa operazione tutti abbiamo capito da subito che l'operazione mirava ad allontanare a discriminare a discutere e il contrasto fu il mediato a tutto questo. Questo sistema qui ha permesso però a tanti volontari e tanti giovani di essere accolti dalla nostra associazione e di poter lavorare come artisti come giovani che si dedicavano anche al lavoro con i bambini liberamente all'interno del campo autorizzati sul campo dal fatto che facevano parte dell'associazione fu circa dai 50 ai 70 alcuni alcuni molti di loro erano proprio aquilani e quindi gruppi aquilani di giovani che lavoravano. Questo è quello di positivo che abbiamo potuto fare per contrastare quello che poi si è rivelato il danno a lungo termine e che è attualmente ancora in corso per noi i cittadini italiani. Anche in questo io aggiungo che tutto quello che è avvenuto nel passaggio nei campi o il passaggio dai campi al progetto case o ai map sono state tutte disgregazioni di comunità che tentavano di ricostruirsi magari non conoscendosi perché nei campi quasi nessuno è capitato vicino al suo vicino di casa o a quello che abitava nel suo quartiere o nel suo palazzo. Tanto è meglio tanto peggio quando si è passati nel progetto case grazie al gioiello perché così si chiamava il meccanismo della protezione di vita guarda caso nessuno è capitato nel progetto case con il vicino o che sono capitati casualmente magari con il vicino che abitava nel suo quartiere nel suo quarto della città nel suo palazzo quindi nuova comunità da tentare faticolarmente di costruire e di ricostruire. Ora si è arrivato al fatto che dopo i primi tentativi dei campi io ricordo anche le sofferenze e i pianti delle persone quando si sono lasciate dopo i sei mesi di vita nel campo del globo e uno andava in un progetto casa a tempera l'altro andava in un progetto casa a pazzano e così via dopo nessuno ha più tentato di costruire comunità dall'interno i nostri progetti case sono sommate di solitudine e di individualità e basta poco basta visitarne qualcuno vi dico soltanto il fatto che manchi qualsiasi luogo o qualsiasi centro quindi gente che si aggira io vivo vicino a un progetto casa si aggira in questi in questi luoghi e se viene qualcuno di un luogo che non conosce ti chiede ma mi scusi c'è un bar da queste parti ovviamente non c'è niente non c'è nessun luogo che possa funzionare come luogo di aggregazione e nel dovere arrivare alla conclusione io dico che cosa abbiamo fatto e sono i laboratori di cittadinanza che abbiamo con i quali abbiamo tentato di contrastare questo scelerata operazione di deprivazione di annullamento di qualsiasi capacità di resilienza da parte dei cittadini cioè la resilienza si intende la partecipazione quando parliamo di salute e quando parliamo di salute in termini di salute mentale non possiamo che parlare in termini di salute di comunità è questo che è importante che la salute di comunità non si affronta né con gli ambulatori né con i farmaci né tantomeno con anzi qualsiasi altro tipo di intervento in quest'ultimo minuto che mi resta io voglio così ragionando con voi concentrarmi sul processo di normalizzazione che sta avvenendo la normalizzazione della deprivazione in questa città si troviamo poco a riflettere su come stiamo da un punto di vista sociale e di relazioni e comunicativo ci stiamo abituando ad accontentarci di quel poco che ci possiamo prendere e dubbiamente credo che questo non vada bene come non va bene quello che sta avvenendo è una forma di neo-istituzionalizzazione che colpisce le fasce più deboli basta pensare ai nuovi mercati che si sono avviati all'anguina nuovi mercati come delle nuove economie e concludo dicendo riflettete sul fatto che oggi vi capiterà di seguire le pubblicità televisive sulle case di riposo su quanto sono bello quanto ci si diverte vedrete immagini di clown che stanno con i nostri anziani questo è quello che sta avvenendo una forma di nuova istituzionalizzazione che si accompagna e concludo anche alle scelte scelerate delle nostre direzioni sanitarie fra i famosi cronoprogrammi del nostro direttore generale dell'Aste dell'Aquila ricordo una che lo spero che faccia la fine di tutti i cronoprogrammi precedenti è quella del famoso hospice che di recente novità ha pensato bene di collocare in un quartiere con il torpione all'ex-hobby dove c'è una casa di riposo e ci mette anche l'hospice perché lo sapesse l'hospice è il luogo destinato ai malati incurabili malati terminali dove la catena si conclude dalla casa di riposo all'hospice e poi il passaggio e il cimitero io credo che ognuno di noi abbia il diritto a essere murato nel luogo dove abita nella sua casa e lo si può fare spendendo anche di meno e anche il diritto di decidere di morire di chiudere la sua vita nella sua casa nel suo mondo e questo diritto ti viene legato creando in questa città come cronogramma il destino dell'hospice e non sto discutendo e non voglio discutere sul fatto se sia opportuno io ne sono contrario a tutti gli hospice in tutta la città a maggior ragione è provocato in questo posto la vita è capissuta fino alla fine nei luoghi che sono memorie e che sono relazioni e lì abbiamo il diritto di essere seguiti questo io credo che debba essere parte integrante del piano straordinario per la salute e per il sociale che l'Aquila si merita applausi la parola Antonella Macocchi con la città per la città di oggi pomeriggio che attualmente la nostra città vive un periodo di frammentazione che sia territoriale che sociale per far capire bene questo concetto mi piace riportare le parole di un antropologo tedesco che ha pericolato un periodo di studi qui all'Aquila e che al termine di questo periodo di studi un antropologo si chiama Jan Bok ci dice che all'Aquila non c'è stato solo un terremoto che avrebbe costruito una memoria integrale condivisa da tutti ma tanti terremoti e allo stesso modo oggi in città non c'è solo la realtà ma esistono tante realtà diverse e queste creano anche problemi nella comunicazione anche se ci sono delle situazioni condivise tanti aspetti continuano a dividere abbiamo visto che questa frammentazione è stata sicuramente influenzata dalle scelte post terremoto uno su tutti quella di cui parlavamo stamattina che abbiamo citato anche adesso per quella del progetto case però ho visto che se è vero che queste dinamiche si sono instaurate dopo il terremoto è anche vero che sono state influenzate dalle dinamiche invece che erano natate già prima del terremoto perché se stiamo portati a pensare che il terremoto è un sismo un evento che restabilizza completamente una comunità e dall'altro è vero che è ancora di più qua all'Aquila in cui erano assolutamente preparate a gestire un evento del genere è anche vero che le dinamiche in atto già prima vengono poi influenzate e accentuate in maniera maggiore nel pastasisma ho quindi rintracciato leggendo una serie di documenti alcuni dei caratteri insidi nella comunità e nella città pilana prima del terremoto che possiamo vedere che hanno poi influenzato anche le scelte che ci sono state dopo allora sarebbe innanzitutto una città che si rivenisce incapace di cooperare una mancanza di una rete comunicativa tra diversi stakeholders e la stanza quindi di un dialogo che potesse comporre tutte le parti tutti i diversi punti di vista i centri minori dell'Aquila che erano sostanzialmente dipendenti dal capo luogo e tuttora appunto abbiamo questa rotazione intorno a una città che di fatto però non esiste attualmente e un accelerato sviluppo edilizio soprattutto nelle periferie negli ultimi anni questo accelerato sviluppo si è poi contraddistinto anche nell'operato appunto nella scelta del progetto case che di fatto non ha fatto altro che accentuare ancora che questo l'abbiamo visto benissimo prima questa frammentazione inoltre un altro carattere che si può rintracciare prima del terremoto è una scarsa partecipazione dei cittadini a una distanza sempre più grande tra l'amministrazione e i cittadini quindi vediamo appunto che le scelte che sono state compiute dopo il terremoto possono possiamo appunto ricondurle a tutta questa serie di fattori che abbiamo da essere in cato cioè il fatto che come parlavamo si parlava anche prima della bellezza in contrapposizione alla bruttezza effettivamente se facciamo un giro nelle nostre periferie e poi facciamo un giro in quello che sono i progetti casi non vediamo una grossa differenza seguendo questa linea possiamo dire un continuo ci sono stati invece degli elementi che hanno caratterizzato delle novità importanti nel tempo del terremoto uno è sicuramente il ruolo rivestito da internet che dal periodo del terremoto e ancora oggi svolge un cosiddetto valore che possiamo chiamare di piazza virtuale e di stambio di opinioni tra diverse parti che compongono una città che continua appunto ancora ad oggi che però arrivare adesso a quattro anni e mezzo dal sisma rischia di sostituire un luogo di confronto di partecipazione istituzionale un altro fattore positivo di volta per prima Sara è quello dell'attivazione della società civile dicevamo prima che il terremoto era caratterizzato diciamo da una sorta quasi di mobilismo il terremoto ha smosso in minima parte diciamo questa cosa c'è stata una grande attivazione anche se non ovviamente di tutta la parte di tutta la popolazione che è speciata oggi ad oggi nell'operato di diverse associazioni abbiamo avuto appunto un modo di vedere proprio la testimonianza di Action Aid di 180 amici ma ci sono tantissimi altri esempi e che ha scaturito anche in alcune istrici che si sono presentate alle scorse elezioni comunali che hanno diciamo un pochino cambiato il volto di quello che è il nostro consiglio comunale quindi questi aspetti ovviamente adesso ci troviamo a dover per fare conti con questi aspetti di minorità e gli aspetti invece di cui si parlava prima questa frammentazione e allora mi è venuto da paragonare la città all'organizzazione prendendo quelli che sono gli studi di Adversa in cui considera le organizzazioni come dei sistemi cooperativi possiamo pensare una città come un sistema cooperativo fatto da diverse entità dai cittadini dall'amministrazione associazioni sapere tecnici e quant'altro in particolar modo lui si afferma sui processi decisionali e dice che i processi decisionali sia quelli personali che quelli interna scala avrebbero sempre secondo un criterio di razionalità limitata e i limiti possono essere di diverso ordine sociali affettivi cognitivi per poter far sì che questa razionalità si espanda è utile il ricorso delle procedure ovviamente le procedure possono essere semplici per decisioni più semplici e complicate per decisioni più complicate come per esempio ci troviamo ad affrontare quella della ricostruzione adesso quindi lui dice anche i problemi che sembrano molto difficoltosi si costano in tracciare dei criteri da seguire per poter appunto espandere questa razionalità abbiamo visto che ci sono esempi e Sara ci faceva un esempio che noi con l'associazione abbiamo avuto anche l'onore di partecipare alla trattazione del progetto della ricostruzione in uno dei polpi colpiti dal terremoto all'Emilia e ci hanno chiamato un pochino per portare la nostra testimonianza che si contrapponeva un pochino a loro perché il progetto di aver ricostruzione nasce dopo neanche un anno dal terremoto dell'Emilia si propone di fornire ai cittadini degli strumenti di partecipazione ma anche di trasparenza perché appunto il fine principale è quello di dati aperti consultabili a tutti e anche dei laboratori che coinvolgono la popolazione dei giovanissimi come per esempio i laboratori di fotografia ma anche le persone più grandi guidando insomma a scoprire un pochino quelli che sono gli aspetti nascosti degli apparti soprattutto pubblici che magari più sfuggono quindi pensando a questi esempi virtuosi che ci sono in giro ma non solo in Italia ma anche fuori quando ci si trova ad affrontare un problema di costruzione ho cercato di intracciare quali possono essere di dare da seguire principalmente e mi ha in mente ne abbiamo cioè è emerso anche dagli interventi che ci sono stati stamattina ma anche oggi possono essere della comunicazione perché molte volte ci si trova davanti a progetti e a peri di cambiamento che più sfuggono la trasparenza e il caso di opera di costruzione lo dimostra e la partecipazione perché molte volte c'è un approccio alla ricostruzione che è soltanto tecnico e poco si guarda al punto di vista sociale e in particolar modo noi come associazione e qui concludo abbiamo cercato di inaugurare un progetto che potesse raccogliere questi principi abbiamo presentato sia più volte in occasione di eseguire queste sia alla nostra amministrazione ed è un progetto della reazione di un urban center questo è scoperto da uno studio di strutture simili che sono presenti in Italia ma anche all'estero cioè prima all'estero diciamo e poi in Italia e che sarebbe un luogo istituzionale dove la città possa imparare soprattutto perché deve agire da laboratorio e che è anche un pochino l'intento di questo progetto è un progetto che si basa per esempio di fotografia sullo scambio di conoscenze e informazioni in transa per i tecnici o per i fotografi e i cittadini l'urban center sarebbe un luogo istituzionale che fa questo permette la comunicazione e la progettazione partecipata tra le anime e la città che è l'amministrazione e l'associazione gli esperti e i cittadini quindi io concluderei grazie grazie grazie